Let's go! Ora sei in diretta! Now? Sei in diretta! Stiamo avvertendo i tuoi followers! Grazie che mi avver... ma non mi ha ancora avvertito a me! Eccolo, in diretta, ci siamo! Tac! Ci vedo! E già, è buono! Lascia stare quello spazzolino! Andrea Benassi ora partecipa! Bella! Bella! Gente che partecipa! Uno, io! Attenzione! Marco! Marco Nucci è il primo dopo di me! Guarda, guarda, guarda! Ciccolella! Alberto! Stanno iniziando! E poi c'è Pata! C'è Pata, attenzione! Rigo Patters! C'è Pata, vai vivo! Mike Taurasi! Pata è vivo allora, è ufficiale! Attenzione! Vogliano clonato il cellulare oppure è vivo! Io! Scrive! Vabbè, insomma, comunque... che ci vuoi fare? Eh, Pata, non ci vuoi più bene! Non passi più! No, non ce l'ha mai voluto prima! Soprattutto a te! A me è ancora qualcosina! Sì, ma a te no! Comunque, oggi parleremo di questo! Ho, ho! Che cos'è? Ho, ho, ho! Chi l'ha riconosciuto scriva l'ho riconosciuto! Ho! Guarda! Ho! 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 Sono anni che volevo una cosa del genere! Bene, cominci, cominci ad attaccarsi, non li ho mai voluto bene, giustamente. Allora, bene, cominciamo ad attaccare Oggi parliamo di regali per golfisti Cose che i golfisti agognano Cose che puoi regalare a un golfista se non sei un golfista Cose che puoi regalare a un non golfista se invece sei golfista Ci piace Bella G Bella B Quindi, tema Argomento regali di Natale golfistici a tutto campo direi Sia per golfisti che per non golfisti La domanda che facciamo adesso per chi si è già connesso è Che cosa vi è arrivato a livello di regalo di Natale golfistico O cosa vorreste O che cosa vorreste Ma soprattutto dei regali che vi sono arrivati Che cosa è stato veramente bello ed apprezzato E cosa invece l'avete guardato per dire Ma che cos'è sta roba Perché hai fatto ciò Perché ci sono anche quei regali lì E io ho questo Ma lascialo giù quel coso lì per piacere Quindi A Cleope Cominciamo Gigi con Così, molto velocemente Aspetta, scusami Cioè chi mi scrive quando è che andiamo a gambe sotto il tavolo Tavolo Ciao Sì, sì Presto Come è fondamentale Così, ok Gigi, che regali ti è capitato di ricevere A livello natalizio Ma non sono anche regali Generale Regali Nella tua vita Urca Cosa ti è capitato di avere Vabbè Mettiamo quelli che assolutamente non mi sono serviti mai a niente E sono lì a prendere polvere Primo tra tutti Senti quel pat che ti arriva con una scatoletta Che bella in legno Il mio è molto bello È un pat Dentro una scatoletta Smontato Perché è pat da ufficio Sì, quello che poi è tipo telescopico Ma in realtà è avvitato Scusate In quattro pezzi Esatto, si monta a pezzi Poi c'è la buchetta finta Cioè tutto E tu puoi pattare Ce l'ho anch'io Vero? Credo che ce l'abbia qualunque golfista Se sei un golfista ce l'hai Perché i non golfisti regalano quello Quello è il problema E quindi ti arriva Ecco, quello prende polvere Sì, ma prende polvere perché tu non hai un ufficio No Se avessi avuto un ufficio invece No, perché nel mio ufficio Hai 850 pat e un patting green migliore Quindi in realtà è per quello Tu, uno di quelli che prende polvere Vai Tanto diteci la vostra Cioè fateci sapere Quelli che prendono polvere E quelli che invece vi sono piaciuti In realtà prende polvere perché lo uso poco Ecco, ma l'ho apprezzato E infatti lo daremo come opzione regalo Il pat da water Ti siedi sul water Sotto la tazza c'è questo tappetino Con buca a forma Proprio che si appoggia sul water E tu hai questo mini pat Col quale puoi giocare Quantità di utilizzo Zero Aspetta, ti aggiungo perché so che tu ce l'hai Io no e lo vorrei fortemente È la tazza che ha il buco sotto E tiri con una micropalla il pattino Il mini pattino che è il cucchiaino per mescolare È geniale Quello è utile Quello lo uso tuttora Anzi, però io stessi mattino ho fatto colazione con quella tazza Ti dirò Vesto? È che l'abbiamo beccata Quello invece è tanta roba È un ottimo regalo Poi diciamo che entrando nei regali goliardici Quelli così da Che però secondo me Se non sei un golfista E lo vuoi regalare a un golfista Dato che tanto non azzeccherai mai una roba che realmente gli piace Esatto, a questo punto tanto vale Buttarla sul ridere Buttarla sullo scherzo E fare un regalo similare Beh, per esempio Una cosa invece che può tornare abbastanza utile Sono i cappucci dei legni Quelli un po' particolari Magari un po' strani Che magari prendono spunto dal soprannome Dell'amico O cose del genere Ecco Quelli invece è una cosa che Non stanno lì a prendere polvere Di solito Perché a seconda di Quanto sono Cafoni E orripilanti Da regalare Ma Io ho una valanga di cappucci A forma di gufo Perché uno dei miei soprannomi È il gufo E quelli li uso Ci sta Non ce l'ho qui Perché ho il cappuccio B2G Perché compra anche tu un cappuccio B2G Da regalarti O regalare insieme a La maglietta Quello può essere un buon regalo Tra l'altro Puoi scriverci il nome sulla manica E quindi è anche Proprio ad hoc Per Il giocatore Tutto questo video è per fare la promozione del cappuccio B2G e della maglietta o delle mappette del campo. Ecco per esempio invece tra i regali secondo me che sono molto molto belli da ricevere sono nell'ordine le lezioni. Perché a volte ci sono tanti giocatori che non hanno quasi il coraggio di prendere le lezioni. Ok e invece secondo me se gliele regali un bel pacchetto di lezioni tutto sommato per esempio io lo vorrei il problema è che quando vanno da Benny a dire ma io vorrei perché così le regaliamo a Benny lui non accetta perché non vuole farmi lezioni. Ma sennò perdo le sfide cioè l'unico modo che ho io per cercare di pareggiarle se non di vincere di pareggiarle o arrivare appena appena e sperare che tu giochi male. Ma che brutta persona è. Ma veramente terribile. Comunque no lezione moltissimi per esempio in questo periodo mi comprano dei buoni per il fitting. Mogli mogli proprio ci sono le cintura nera perché al marito non sanno mai che cosa regalare anche se giocano eh. Cioè sono mogli giocatrici spesso e volentieri e al posto di dire regalo il fitting anche a me. No lo regalo a lui come c'è a vedere. Poi di solito mediamente arrivano vengono con il marito col compagno e il risultato è che poi il compagno lo regale. Quindi c'è un circolo virtuoso. Un dare avere. Green fee. Green fee per andare a giocare. Non ci si pensa ma è un ottimo regalo. Green fee magari in campi dove tu amico golfista regali al tuo amico golfista per poi andarci a giocare insieme. Secondo me quello forse è il regalo che a me piacerebbe di più ricevere. Cioè il fatto di avere tra virgolette l'invito. Di passare del tempo insieme. Esatto. Perché in realtà oltre a pagargli il green fee gli stai garantendo del tempo insieme. E secondo me se siete amici e siete golfisti tendenzialmente questo è un bellissimo regalo. Per arrivare magari poi a esagerare con magari dei weekend, dei viaggi sempre a tema golf. A esagerare ok. Però diciamo che questi sono secondo me i regali che forse è un peccato perché non sono tangibili. Quindi è difficile metterli sotto l'albero. Però sono quelli che io personalmente apprezzerei di più in assoluto. Però potresti impacchettarti e dire. Ciao sono il tuo regalo. A me viene più. A maggio 2024 giocherò con te al gol club Biella. Sto qua sotto l'albero fino a maggio 2024. Sotto l'albero perché palesemente ho fatto una spalanca col driver. Sotto l'albero. Sotto l'albero troppi appena alato. Esatto. Se le altre cose sono gli accessori. Per esempio se il compagno. Lascia stare qualcosa. Se il vostro amico non ha un sistema di misurazione. Ecco che regalare un telemetro piuttosto che un orologi di gps o cose del genere è un ottimo regalo. Beh torniamo sulle mappette per esempio che sono in qualche modo sistemi di misurazione. Certo. Ma negli accessori. Le mappe. Il bello è che gli puoi regalare delle mappe magari di campi. Non per forza quello dove gioca. Ma campi dove potresti portarlo a giocare. Esatto. Quindi. Torna al discorso. No potrebbe essere proprio la scusa per dire. Ti ho fatto il green fee e ti do anche già la mappa perché così te la studi. Vediamo giocare. No e ce la si studia insieme. Secondo me è divertente. Anche lì. Quelle classiche cose che da solo magari ogni tanto non faresti ma se ti tirano in mezzo come per regalo con un amico e tutto lo fai. Ecco per esempio una cosa potrebbe essere un pacchetto di lezione da fare insieme. Sì è vero. Giusto. Oppure abbiamo anche magari il cappellino del giocatore preferito. Cioè il cappellino alla Fowler, la maglietta che porta Dustin Johnson o cose simili. Ovviamente in quel caso lì bisogna conoscere la taglia del destinatario del regalo. Però per esempio sono cose simili. Adesso che fa un bel freschettino. Mi ricordo che poco fa è arrivato un messaggio del ma com'è che in campagna diluvia e lì a Milano c'è il bel sole. Sì c'è il bel sole ma fa un freddo maiale. Noi stiamo fingendo di stare bene ma abbiamo otto strati. E per esempio in questo caso un bel maglioncino con l'antivento sotto pantalone. Il maglione con dentro l'antivento è la rivoluzione. Ho una bella termica giusta giusta. Quello è un regalo per i colpisti. Perché la termica mi dà fastidio. Perché già sono tanto di mio. Cioè se mi cerchi di inguainare tipo salsicciotto. Caspita. E' una roba io già mi muovo male poco. Se no non mi muovo più. Però risalta le forme. Però risalta le forme modestamente. Mentre invece il maglione con l'antivento dentro è spettacolare. Io ho sia il maglione che il gilet. Il gilerino. Il gilerino con antivento. E quelle preme sono quelle cose che alla fine il golfista continua a dire. Si premo poi me lo prendo. Poi però non ci va mai a recuperare. Invece averlo come regalo. A quel punto hai la scusa di giocare anche in merda. Comunque fa così freddo che anche il microfono ha il pelo. Vittico. Grande. X-Mind 1980. Effettivamente si. E' l'unico che sta accanto. 1980. E' a metà frammette. 78-82. Ma sarà l'anno di nascita? O lo scori. Io faccio 78-82. Io te lo dico. E quindi. Allora poi invece si entra più nel. Nel. In quei. In quel problema di quelli che decidono di fare regali utili. O che pensano di essere utili. Lì. Secondo me si entra in una babele importante. Perché. Allora. Secondo me è una scatola di provi. Non ha mai fatto male a nessuno. Scatoli di palle si va sul sicuro. Se poi per caso ci è capitato di vedere. Anche solitamente. Qual è il modello di palla che gioca. Quello è. Sicuro. Perché ricordiamo. Scegliete una palla e giocate sempre con quella. Fa niente se non è la perfetta per voi. Ma è un vantaggio. Assolutamente. Togliere delle variabili. Quindi. Il problema qual è. E' quando poi non sai più che cosa fare. Ci sono delle persone che. Giustamente. Sono già prese tutto quello che gli serviva. E vedi sti amici che brancolano nel buio. Cercando di trovare un regalo che possa avere un senso. Questo capita spesso nei compleanni. Sì. Più che a Natale. E lì diventa un disastro. Perché. Che fai. Non sai cosa fare. O ci giochi spesso e sai che vuole una determinata cosa. Lo sai. Perché per esempio una delle cose più rischiose è regalare un bastone. Sì. Anche secondo me. Quello è sicuramente molto apprezzato perché alla fine è un valore. Cioè anche il bastone più inutile che possiamo regalare è comunque qualcosa che vale. Un bel regalo. Sì. Però rischia di non essere assolutamente utile per quei giocatori lì. Quindi o un doppione o magari un bastone che va fuori dal gioco. E allora adesso ti dico che cosa di solito l'utente medio pensa. Attenzione. Dice. Vai. Allora se devo regalare un bastone. Ok. Regalo un bastone che va bene più o meno sicuro anche se non ci ha azzeccato perfetto. E pensano al pat. Che è quello da customizzare più di tutti gli altri. Se non proprio il più delicato. Diciamo se non proprio il più delicato comunque va customizzato esattamente come tutti gli altri perché vada bene. Poi ovvio non facendo volare la palla la sensazione è sempre quella di dire vabbè ma un bastone l'altro. Ha citato il pat. Il pat male. Eh. Invece secondo me a quel punto la cosa migliore sarebbe quella di dire facciamo un buono o ti do un bastone pro forma simbolico e poi però vallo a scegliere giusto. Ok. Questo alcuni negozi lo fanno e quindi è un potrebbe essere un vantaggio se no un voucher è un buono quello. Noi spegniamo soldi per il golf volentieri. Quindi se ci arriva un voucher di X da spendere nel negozio Y. Non lo spegniamo di più. Sì. Questo è probabile. Quindi fateci sapere intanto qui sotto nei commenti che regali vi è capitato di ricevere a livello golfista che avete apprezzato o magari invece i regali un po' fuori dal galleri. Non che necessariamente non ci è piaciuto ma cose magari un po' impensate. Quelle che dice questa era così originale che non so neanche se mi piace. Comunque volevo ricordare che questo format della live improvvisata su Insta che poi viene rimesso su YouTube si chiamerebbe un caffè con B2G e secondo me è già la seconda volta che Benny si dimentica. No, non ho chiesto il caffè. E dato che sei tu il segretario ecco so già che è già un'altra volta che mi salto il caffè. Solo perché non ho il numero di telefono per far arrivare il caffè dalla distanza. Però se qualcuno è delle rovedine perché ne ho visto passare magari poi vi è attaccato. Non è che ci mi ha portato il caffè? Bollente. Bollente. Io direi pata. Eh? Pata. Visto che si era connesso. Lui è giocatore di rovedine probabilmente non è in zona in questo momento ma fa niente e viene a portarci il caffè. Mi sa che sta a lavorare a X Factor può essere. Comunque io vi ricordo che ho questo. Perché tu hai quello a sto punto? Allora perché ho deciso di andare, sono andato con la Franci, mia moglie, a comprarmi delle cose per Natale e la scusa è Natale ovviamente, dei regali da mettere sotto l'albero però io me li scelgo cioè non so se anche voi fate questa cosa. No, la faccio solo io. non lo so, comunque praticamente noi abbiamo questa, noi ci facciamo i regali ma li scegliamo noi. Autoscelte. Quindi sei sicuro che il regalo vada buon fine? Sì, poi magari ecco io ogni tanto qualcosa la riesco anche a prendere sapendo che a lei può piacere e cose. però lei sa perfettamente che è impossibile perché era una roba esattamente... Effetto sorpresa. No, io non lo voglio proprio, non mi piace. Ok. Quindi il risultato, sono andato in un negozio a comprarmi alcune, alcune, vestiario principalmente. quindi un pantalone un po' più pesante, quelli col pallettino dentro, un altro maglione con l'antivento così ne ho due e sono più comodo e poi una cosa che volevo da tantissimo e ci passavo davanti e sono quelle cose quando dicevo che a volte uno non ha il coraggio di comprarsi la roba se se la deve comprare lui. Se invece è un regalo... Dici vabbè colgo l'occasione. Vabbè colgo l'occasione. Ed è una vita che io vedo Benny pulire i bastoni con lo spazzolino da bastone. Che oltretutto anche questo è un regalo. Ah sì? Lo sapevo. Mi è arrivato da Stericotelli ex codino. Ah, guardate il suo rat trap. Quindi il risultato l'ho visto un po' in alcune sacche, l'ho visto sulla tua e sarà un anno che penso ma io lo vorrei. Lo vorrei fortemente ma nessuno me lo regala perché giustamente sanno che non mi piacciono le sorprese quindi nessuno regala niente. Il risultato ero lì che stavo mettendo dentro il cestone e ho detto sai che c'è? Ho guardato la Francia e ho detto ma mi regali anche una roba proprio che non ha senso? Poi anche lì mi sono autoregalato però va bene uguale perché tanto è tutto un calderone. Ma non l'hai messo sotto l'albero. E qui no questo è il tuo. Ma questo è il tuo. Te l'ho rubato perché il mio non potevo metterlo perché è nel cestone del coso. Ah è ancora nel cestone. Che andranno. No perché poi le impacchettiamo e perché il problema è che nella mia famiglia questa cosa dell'aprire regali è fondamentale. E invece a me non frega niente e nella mia famiglia quella che mi sono creato quindi con la Francia e Jacopo. Jacopo si apre qualche regalo ma io e la Francia ci interessa il giusto. Però dato che andiamo a casa dei nonni e a casa dei nonni c'è pieno di regali poi noi finiamo sempre con non avere niente da aprire e quindi durante l'ultimo mese, mese e mezzo di Natale, impacchettiamo roba che ci compriamo tanto puoi anche non usarla subito la userò alla fine da gennaio. Ma le impacchettate a sorpresa. No perché so che cosa mi arriva. No tu impacchetti quelli di Franci, Franci tuoi così quando apri quando apri già pensavo fosse l'altro. No perché il bello del regalo per noi è quel famoso discorso di avere il tempo di essere andati insieme a sceglierceli. Quindi un po' come quando decidi per esempio potrei fare un regalo a sorpresa a Benny. Potrei pensare intanto io guardo qua perché c'è la live ma guardo anche qua perché ci abbiamo se funziona. A sto giro se funziona l'altra volta non ha funzionato. Proviamo a fare la ripresa anche in orizzontale. Per YouTube. Per YouTube. Ok potrei regalare a sorpresa a Benny una cosa. Ma non posso spoilerarla o la spoilero? Sei uno a cui piacciono le sorprese o no? Io sono più della sorpresa. Ah ti piace? Allora non ve lo posso dire. Perché c'è una cosa che regalerò a Benny. per vicissitudini succederà qualcosa l'anno prossimo. Attenzione. Che tu ancora non sai e che non sai bene diciamo. Attenzione. Potresti anche arrivarci a intuirlo però non lo sai. Ma ci sarai solo vicino. Ok e quindi te la posso regalare. Sarò l'interessante. Ed è e dentro c'è del tempo da passare insieme. Quindi non è un regalo una roba terribile. Mi deve sopportare ancora. Praticamente devi rimbiancare casa. Esatto. E ti serve un manovale per spostare i mobili. Come hai fatto a capire? Mi sembra che... Allora caspita mi hai spoilerato il regalo. E quindi è del tempo da passare insieme. No. Ma tu usi di più questa parte? Perché la vedo più rovinata. No. Uso in realtà di più questa qua. Perché con questa ho paura di rovinare i bambini. E infatti. Che nasce già un po' rovinata. Quella lì. Ma la mia non è rovinata così. E la mia nasce non rovinata. Ah ok. Vabbè. Ehm. Quindi insomma. Fateci sapere un pochino. State scrivendo. Quali sono i regali che vi sono piaciuti di più. E quelli che vi sono piaciuti di meno. Golfistici. Oppure se avete in mente qualche regalo per qualche amico. Oppure vorreste ricevere. Una delle cose. No no. Vai vai vai. Continui. Dopo apro un dogleg. No no. Apri il dogleg. Perché dopo ho invece. Forse il regalo. Il budget è un filino più alto di un regalo. Diciamo che si fa mediamente tra amici. Però c'è una cosa che secondo me qualunque golfista apprezzerebbe. Poi che la usi o non la usi non si sa. Ma ve la dico dopo. Andiamo avanti. Vorrei un carrello elettrico. Vedi quello lì. Carrello elettrico io me lo sono regalato. Nessuno me l'ha regalato. Comunque è stata la svolta. Io devo dire che il carrello elettrico lo trovo una delle cose migliori. Golfisticamente parlando come accessori diciamo che non riguardano il gioco giocato. Ma in realtà è gioco giocato perché ti permette di farti l'auto caddy. Perché vai in giro e da solo e cammini e quindi puoi parlare pensare a che cosa fare fare le mie strategie le mie cose. Senza il peso di trainare spingere o avere sulle spalle una sacca. Senza il problema di farlo con il car. Perché il car mi toglie ritmo di gioco. E il carrello elettrico quindi mi segue più o meno alla velocità con cui cammino io. Se lo riesco a regolare bene non sempre facilissimo. Quindi sei meno stanco alla fine riesci a concentrarti di più sul gioco. Però senza togliere il ritmo e tutto il piacere. Devi stare rispetto a chi va a sacca in spalla devi fare il giro del green dei bunker. Esattamente come fai con un carrello normale però per il resto direi ottimo. E soprattutto nei campi non piatti e tanta roba. Abbiamo Mick Taur che dice concordo con Gigi mi regalo carrello elettrico. Abbiamo già due carrelli elettrici. Così si fa. Azienda di carrelli elettrici. Stiamo vendendo per te. Sponsorizzaci. Qua sotto c'è l'Iban. Poi aziende di carrelli elettrici. Perché non c'è un'azienda di carrelli elettrici. La carrella elettrici S.P.A. che fa carrelli elettrici per tutti. Carrello elettrico secondo me ha un solo svantaggio. Se giochi sempre nello stesso campo e lo puoi lasciare al campo e ricaricare al campo. 100% di piacere. Se lo devi portare in giro è un po' pesante. Se lo devi portare in giro. Se lo puoi lasciare al campo ma non te lo ricaricano. Quindi devi portare via solo la batteria. Vabbè no. Poca rottura per un grande vantaggio. Se ogni volta lo devi caricare e scaricare dalla macchina. È comunque un po' più pesante di un carrello normale. Sì. Devi ricordarti che la batteria va ricaricata. Se no poi arrivi a metà e poi diventa pesante da spingere. Anche se questi nuovi si liberano poi le ruote e vanno. Insomma quindi non è per tutti. Quindi non tutti hanno un modo di giocare che è compatibile al 100% col carrello elettrico. Però in generale comunque tanta roba. Ok scudami. Invece il mio dogleg dopo che ho fatto questo dogleg più largo di quello che volevo fare io. Era attenzione potrebbero anche esserci quei regali dei golfisti fatti a non golfisti ma regali inerenti al golf. Per esempio basta il classico potrebbe essere il lezione di prova per iniziare a giocare. Oppure io ho regalato di recente un micro set composto da guanto, tre palline e lezione. Ma dai. Per iniziare a cominciare a giocare e da lì. Che piace. E' un attimo perché a quel punto si fa quella cosa del far varcare i cancelli del gioco del golf. E abbiamo una scusa per farlo. E abbiamo potenzialmente un nuovo amico golfista che gioca. Quindi in realtà è una situazione dove guadagna lui che fa, che ne sa provare. Ma poi guadagniamo noi perché abbiamo un amico in più che gioca. Quella è tanta roba. Scusate Fabri Monza che è fighissimo perché dice il miglior regalo potrebbe essere un fitting o un pacchetto di lezioni. Se l'abbiamo un po' detto prima, secondo me le lezioni vanno da matti. Fitting me ne chiedono tantissimi di voucher sotto Natale e ci sta. E non solo sotto Natale. Quello che vorrebbero tutti un drive perché è per colpa di quello che facciamo le spalanche. Mi piace, hai ragione. Sì, è sempre colpa del drive. Io ne dovrei cambiare uno a colpa. Neanche uno a buca. No, uno a colpa. Perché potrebbero esserci un buco dove tiri due. Esatto. Prima in auto e la seconda dall'altra parte. Ci sta. No, invece non è quello il regalo secondo me più ambito in assoluto quando lo sveleremo. Quando lo svelerei tu perché io non ce l'ho ancora in mente. Ah, non ce l'hai. Attenzione, qui si può fare un gioco. Allora, dai, ti do un po' di info. Allora. Allora, è un attrezzo. È un attrezzo, non è un servizio. No. Che può essere facilmente, facilmente da quasi tutti, direi tutti, utilizzato principalmente per praticare ma non solo. Ce l'ho. Se non mi dicevi principalmente per praticare avrei detto un peschino. Un tanto da tutti. Caspita il peschino. Tutte mani in acqua. Il peschino. Il peschino è la cosa più intelligente da regalare. Bravo, hai ragione. Eh. E non ce l'ho. Non ce l'hai. Malissimo. Perché il peschino fa un po' quella... Ha un po' quella... Dicotomia. No. All'aura di sfigato. Eh. Se ce l'hai in sacca è sicuramente di tutti i bastoni. Quello che usi di più. Di tutta l'attrezzatura sacca è quello che soprattutto si ripaga più facilmente. Insieme a questo. Cioè, non è che si ripaga. Cioè, lo... Lo ammortizzi e ce ne puoi comprare gli altri dieci. Solo nella vita di un peschino. Ma dà un po' quell'idea del... Eh. Quel giocatore lì ha il peschino quindi va in acqua. Quindi... Eh. Non è un buon giocatore. Adesso te lo dico proprio così. Se hai il peschino... No, ma è peggio. Pensa... Un barba. Raccoglie le palle e poi usa quelle che trova. Cioè... One ball. One ball. One ball. La regola è avere una sola tipologia di palle. Intanto Mike Taurasi dice un viaggio con gli amici a scoprire campi nuovi. L'abbiamo detto. Forse quello in assoluto. Insieme a Green Fee e quant'altro. O lezioni comuni. O fitting in due. Sempre in Mike abbiamo alternativa di... 18 mucche il 25 mattina. Quindi... In che mese? Perché 25 ce ne sono tanti. Ce ne sono 12. 25 dicembre per saltare il pranzo di Natale con i suoceri. Questo... Che invece è una cosa che io apprezzo tantissimo. Quindi dopo che hai pensato che... Che si mangia come... Esatto. Dove si mangia va tutto bene. Tanto è bene. Ma... Quindi dicevamo... Vediamo se azzecchi il regalo che secondo me un po' tutti vorrebbero. Attenzione. Che serve per la pratica ma non solo. Alignment sticks. Ti ho preso? No. Però... Ottima idea. Vedi che ne stanno venendo fuori. Che non ci avevo pensato. Questo è un regalo poca spesa tanta resa. Non so quanto costino esattamente. Io metto giù i bastoni. Però... Per fare la convergenza dell'allineamento. Come abbiamo detto nel video sull'allineamento. Fa tanto. Si sono d'accordo. E si possono essere utilizzate per fare allineamento. Ma anche per tantissimi altri utilizzi. Tra piano dello swing. Vedere dove si colpisce la palla eccetera eccetera. E... Oggettino semplice da tenere in sacca. E può essere utile anche per... In quattro palle se uno sbaglia l'altro. Per la frustata dietro le ginocchia. Che è sempre piacevole. Quindi non era l'alignment sticks. Ma non era l'alignment sticks. È un attrezzo. Un arnese. Qualcosa. Che... Si usa principalmente secondo me nella pratica. Ma in realtà si può provare ad utilizzare. Si usa anche... Si può usare anche in campo. Si... Per assurdo... Si può usare... Non so se hai determinate situazioni. Anche a casa. Un launch monitor. Il launch monitor. Cacca idea. Perché secondo... Allora scusami. Nel frattempo è venuto in mente. Un tappetino per pattare. Si. Quelli sono tanta roba. E il regalo col fisico più brutto ricevuto. Mini calcolatrice. Contacolpi. Perché ti sei sentito... Alle rubelli. Sei sentito un pochino. La mini calcolatrice. Cioè calcolatrice vuol dire. Che proprio ci resti tirando tante. No perché li devi moltiplicare. Capito? Non è più uno più uno più uno. È per due. Quando c'è la funzione al quadrato. E inizia a dire. Cavolo è stato tirando tantini. E comunque. No. Mi è venuto in mente per esempio il tappetino. Per... Tappetino per pattare. Sì. Assolutamente. Scusate. Per pattare a casa non è male. Sì. È questi nuovi strumenti tipo mini launch monitor. Per esempio è arrivato Prince Ricchier che dice Garmin Approach S72. Ah sì. Il GPS. L'orologio. Assolutamente. Dicevamo all'inizio. Quindi tutto quello che è strumenti di misurazione. Le mappe. Dei circoli. Il... 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 Il laser. Il GPS. C'è anche il laser che ha dentro il GPS. L'ho provato qualche tempo fa. Ed è veramente interessante. Esatto. Costa un pochetto. Però... Però è un bel... È un bel arnese. Perché dove il laser non prende. Hai comunque dentro il GPS. Però è vero. Launch Monitor. Effettivamente. Adesso ce ne sono anche... Vari a un prezzo ragionevole. E... Spoileriamo che ne abbiamo testato anche uno. No. Allora non lo diciamo. Sì. Spoiler. Ops. Allora l'ho già detto. Assolutamente. Ne abbiamo testato uno di un amico che ce l'ha prestato. Non sarà... Né il primo né l'ultimo né l'ultimo né l'unico. Perché? Non sarà l'unico oggetto. Perché abbiamo intenzione. Dall'anno prossimo. Dal primo gennaio 2024. Ah quindi non posso farlo uscire prima? No vabbè. Orca io ho pianificato prima. No vabbè. Meno puntata sui marchi stile recensioni. Ma più che sui marchi, sugli oggetti in generale. Allora l'idea per adesso è di recensire principalmente oggetti e tutto quello che si usa giocando a golf. Sì. Quindi anche cose un po' particolari. Soprattutto cose che magari voi avete e che ci volete mandare da testare. Ok? O da provare o da recensire in qualche modo. Noi le proviamo, ci giochiamo un po' e poi facciamo la recensione e ve lo rimandiamo ringraziandovi nel video. Questo è un po' l'idea del video. Poi sicuramente entreremo anche nel merito di attrezzature e quant'altro come già facciamo un pochino. Però questo è proprio un format su oggetti di vario genere. Ok? Tipo, mi è capitato di avere questa palla che promette di non prendere mai effetti. Ma è vero? Gli occhiali che fanno vedere meglio le pendenze. Te li ricordi? Se li trovo... Secondo me io li ho. Sì, ma ero piccolino. Secondo me io li ho. Era... Avevano delle lenti. Quelle riviste, quelle che vedevo la fuffa totale. Che vedevi le donne nude. Quelle robe lì, ma a versione golfistica. Esatto. Vedi le palline nude. Vedi le palline nude. Vedi il campo nudo. Non vedi gli alberi e quindi tiri facile. Però casp, questa doveva brevettata, attenzione. Occhiali che non ti fanno vedere gli ostacoli. E la volta che... Tiri dritto. Perché dici tanto non c'è niente e ti lo comodo. Ok, comunque. Quindi Launch Monitor è assolutamente una delle cose che viene richiesto di più. Ma dicevamo, allora, come chiamereste... Ti aggiungo, allora, anche tutti quegli oggetti possano essere utili nell'allenamento. Quindi, per esempio, lo specchio per pattare o cose di... Sì. Ma anche solo per spostarsi. Noi proviamo qualunque cosa. Inerente al golf anche solo di striscio. Quindi potrebbe anche essere una pizzeria vicino al campo da golf. Noi andiamo a testarla per voi. Ci sacrifichiamo. Ci sacrifichiamo. E l'idea è proprio che magari sono cose che voi avete e che quindi ci mandate da provare, poi noi vi la rimandiamo, in modo tale che siano proprio cose che arrivano da... Quindi è quasi come se foste voi gli sponsor del video in sé. Perché secondo me è molto divertente perché così uno poi viene citato, è carino. Insomma, guarda, questa è quella roba che gli ho dato io che io non riuscivo a usare anche loro. Infatti hanno fatto un casino. E' la community che testa a quel punto. Non siamo noi. Esatto. Come piace a noi, in realtà, noi siamo qua da questa parte della camera, ma in realtà è proprio tutta la community che lavora dietro perché tutto questo progetto continui e funzioni. Quindi come lo chiamereste questo format? Aspettiamo sia qui che poi su YouTube quando metteremo il video su... Se va. Se va di qua. Se invece mi vedete andare sempre di qua, vuol dire che non ha funzionato neanche stavolta la seconda camera. In verticale funziona solo la prima camera. In orizzontale funziona anche la seconda. Comunque, tornando quindi al discorso del... Diciamo in questo momento... E' arrivato il primo, il T... Scritto come T... Te... 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 posto dove non passi Bumblebee. Mi mancava comunque, l'ho ancora visto. Comunque, no, allora, in questo momento una delle cose che mi viene richiesta di più è ma vale la pena prendere questo launch monitor piuttosto di quest'altro? Ce n'è un sacco, cioè, allora, mi è stato richiesto, allora, uno si chiama Garmin R10, che è il più famoso, sempre Garmin G80, poi Rapsodo, che è molto simile però ci va attaccato il cellulare, FlightScope, Mivo o Mivo Plus? Mivo e Mivo Plus, Mivo Plus già costa tanto, Mivo è quello piccolo, ma ce n'è tanti, poi in Italia non arrivano tutti ma se andate ai Stati Uniti si trova veramente la qualunque, ci sono i radarini, quelli più piccoli che vendono su Amazon, che prendono la velocità di passaggio della testa del bastone, se messi in una determinata posizione e tutto, che comunque anche quelli possono essere simpatici, insomma, ce n'è tanti, ci sono anche quelli, tutti quelli tipo lo ZEP che non fa esattamente la stessa cosa però un pochino è similare, alcuni lo chiedono perché molti di questi sistemi permettono poi di fare una specie di quasi campo pratica virtuale ma addirittura di fare quasi gioco, ok? Altri più perché ti danno dei dati principalmente sulla partenza della palla, passaggio del bastone, velocità del passaggio del bastone e tutto, che sono interessanti. Nel video che uscirà sulla recensione test, più che recensione del... Sì, bravo, perché non è che faccio una recensione, faccio un test del vedere come ci troviamo noi e per cosa lo useremmo davvero. Esatto, funziona, non funziona, cosa promette e cosa mantiene delle promesse fatte e per come lo useremmo magari con dei punti di vista leggermente diversi rispetto a quello per cui è stato creato. Per esempio abbiamo scoperto nella recensione che uscirà del... Pronti? Come si chiama? Garmin... L'oggetto... Che nome ha? È un GPS che fa anche da... GPS... Launch monitor... Radar GPS... Radar GPS... Abbiamo scoperto che ha una funzione che neanche nel sito... C'era scritta... Ma che in realtà può essere utile, anzi... Anzi... Molto più utile del... Del resto... Però... Sì, sì, sì. E quindi insomma, quella è un po' l'idea. Ripeto, quindi c'è capitato che un Jacopo... Jacopo è mio figlio, ma non è mio figlio... Ci ha portato questo... questo arnese da testare, da lì è partita l'idea poi di questo format. Ricordatevi di dirci che nome gli dareste. È arrivato un altro nome... Aspetta che te lo dico... B2G test tour... Tour... Perché andiamo in giro... Touriamo... Test... B2G test... Ci devo pensare... Pensaci... Comunque... E quindi è figo... Perché molti o magari possono praticare in casa perché si sono fatti una piccola postazioncina... O perché in campo pratica magari ti piace stare lì a praticare... Però se non hai uno stimolo... Se non hai dei dati... Se non hai qualcosa su cui lavorare... Fai un po' fatica... Alcuni perché capiscono l'utilità anche di portarlo in campo... Metterlo e fare magari dei colpi che di solito sbagli per vedere cosa succede... Per esempio... Insomma comunque è molto ambito... Ci sono diciamo prezzi che credo più o meno vadano dai 200... 150 dei radar quelli più basici... Fino ai 5-600 euro di quelli un pochino fatti meglio... Hanno tutti dei pro e dei contro... Secondo me la vera domanda che si dovrebbe fare chi riceve questo regalo... Perché oggi parliamo di regali... Si ipotizza che uno lo riceva... È perché lo vorrei... Cioè qual è la cosa che penso... Su cui penso che lui mi possa aiutare... Perché il problema è che ognuno di questi arnesi, attrezzi... Magari fa bene una cosa e non ne fa bene un'altra... E quindi in funzione di quello che noi gli chiederemmo... A quel punto possiamo decidere... Ok... Che cosa prendiamo... Quello che mi dà quel dato che io voglio... Il più preciso possibile... Perché sennò diventa poi una babele... Ovviamente... Quindi ripetiamo un attimo il tema di questa live... Se avete commenti scriveteli pure... Il tema è i regali golfistici... Fatti a golfisti... Ricevuti da golfisti... Fatti a non golfisti... Ricevuti da non golfisti... Per regali golfistici di tutto campo... I più belli che avete ricevuto... O i più strani... O i più inutili... O quelli che vi hanno strappato una risata... Se ne avete da raccontare... Scriveteci qua sotto nei commenti... Che ne parliamo ancora per... 5 minuti perché poi io voglio il caffè... E non mi hai... Non ha ordinato il caffè... Questo format si chiama un caffè con B2G... Già dura un'ora che... Cavolo se lo beve un caffè di un'ora... Solo noi perché... Per 55 minuti per aspettare che io mi alzi e vada a prendere il caffè... Se poi non lo chiedi... È già la seconda volta che non mi chiede il caffè... Cosa mi fai sedere a fare? Poi la gente vede che non arriva il caffè... Dice ma che caffè con B2G è? Loro vogliono il caffè... Volete il caffè? Allora mettete tutti un 1... Se volete un caffè... E un 2 se ne volete due... E un 2... 0 se non lo volete... È facile... Mi sembra di... È un po' codice binario... 0 o 1... Facile... No e quindi... Tornando ai regali invece... Hai un regalo che ti è rimasto nel cuore... Magari... Immagino di quando eri un po' più piccolo così... Che a sfondo golfistico... Aspetta che ci penso... Non è facile... Perché alla fine 1 x 2... 1 o 2 addirittura... Stanno arrivando i caffè... Perché io faccio un po' fatica... Perché ovviamente giocando da tanto... E giocando... Durante il gioco ti prendi le cose che ti servono... E... Non lo so... Allora... Io ho una cosa che mi è piaciuta molto... Quando è nato Jacopo... Mio padre... Nonno... Si è fatto fare una fornitura... Perché ne ha comprato una quantità senza senso... Di palline con scritto Jacopo Iannuzelli... Beh... Bello... Vabbè... Questa è una cosa abbastanza... L'ho vista spesso fare... Insomma... Però... Ci sta... Molto carino... Però quella cosa mi ha un po' toccato perché... Cioè... È una cosa normale che vedo sempre... Ma quando poi... Capita a te su una cosa che ti... Su cui tieni... Effettivamente... Ha un salto... Fa un salto... Oddio... Mi ricordo di un regalo che abbiamo fatto noi... A una persona... Che poi per vicissitudini varie a livello golfistico... Non abbiamo visto per tanto tempo... Quando l'abbiamo rivisto aveva ancora quel regalo lì... Ed era... Un ferro uno... Regalato... O uno o due... Un ferro molto chiuso... Regalato a Lollo... Ah... È vero... Il ferro uno della Callaway regalato lì per... Penso sul diciottesimo compleanno... Forse... O cose simili... Andatevi a vedere il Rattrap del Lollo... Che poi aveva ancora... Lì a disposizione da tirare... Ormai... Di una difficoltà... Impensabile... Infatti... Intanto... Prince... Ricric... Ha detto che... Gli hanno regalato la quota... Al circolo... Non male... Non male... Quella è assolutamente tanta roba... Ci piace... Ci piace... E... Caspita è vero... Non mi ricordavo... Perché... A volte quasi... Ricordi di più... I regali fatti... Di quelli ricevuti... In generale... Mi ricordo... Ricevuto... La mia prima sacca completa... Di quando ero... Piccinino... Eh... Ti stavo dicendo questa cosa... Che... Sicuramente... Quella è una di quelle che... Che mi ricordo... Erano i ferri della... Petron... 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 Il famoso... Petron Doll... Non lo so... Ma... Era un bastone che riusciva a beccare... Una via di mezzo... Di altezza... Tra i bambini... E i grandi... Perché non c'erano ancora... I set... Da junior... Quelli studiati... Come adesso... Quindi bisognava trovare... Quelli che riuscivano a fare... I bastoni... Che di solito erano dei ledi accorciati... Delle robe un po'... E quella marca li faceva anche i bastoni... Da ledi molto corti... E quindi... Se... Ci abbiamo un attimo... Vi racconto... Il... Uno dei regali più belli che ho ricevuto... Che non era per Natale... Con anche come è finito però... Attenzione... Perché secondo me... Il come è finito è più bello del regalo... Più bello nel senso... Adesso col senno di poi... Vai... Ok... Allora... Partiamo dal presupposto che... Fino ai... 16-17 anni... Insomma... Al ridosso della maggior età... Ero decisamente... Un giocatore diverso... Da adesso... Un testa calda... Ero un po' un testa calda... Hai già capito dove voglio arrivare... Sì... Mi conosce troppo bene... Non gliela posso fare... Comunque... Risultato... Ah... Quindi... Non mi ricordo più esattamente... Comunque... Facciamo... Per facilità di conto... Diciamo che intorno ai 16 anni... Per 16-17 mi pare... Comunque... Prima della maggior età... Arrivo per la prima volta... A zero... Di handicap... E quindi... Mio padre... Mi porta in un noto negozio milanese... A comprare... Adesso non c'è più... Tra l'altro... A comprare... Una sacca... Il Burghi... Il Burghi... Non c'è più il Burghi... Golfistico... E poi siamo andati al Burghi... Perché erano vicini... Da Polos... E... E... Per comprarmi una sacca... Da tour... Perché secondo lui... Una volta arrivato a zero... Ci stava che io avessi una sacca importante... Quelle belle... Ciccione... Quindi... Compro... Prendo questa sacca... Grande... Mi ricordo che sul carrello... Era straripante... Ste cavolo di sacche da tour... Tra l'altro... C'aveva pochissimo spazio in realtà... Sì... Però erano enormi... Erano enormi... Per caso cadeva dal carrello... Non l'alzai più... Ai tempi... Io ero magro... Quindi... Oggi mi si conf... Cioè... Sarebbe simile a me... Perciò... Ai tempi ero magro... Quindi... Giravo con sta cavolo di saccona... Comunque... E... Risultato... Però quanto senti figo? No... Mi sentivo mamma... Proprio... Un altro pianeta... Poi aveva... In Pandana anche... La sacca portapalle da pratica... Cioè... Avevo tutto... Era tutto un corredo... Mamma mia... No... Figato... Risultato... Un... Mi ricordo benissimo... Mi ricordo anche con chi... Ok... Roberta... Sangalli... Ti ricordi? Ciao... Non so se mi vedi... Cioè... Avevo questa amica... Che voleva giocare... Una gara del giovedì... E io... A quei tempi... Cioè... Ma io faccio le gare serie... Non faccio le gare infrasettimanali... Dai... Cioè... Se io scendo in campo... Devo fare poco... Cioè... Era tutto preso così... Sì... Sì... Ma io con una sacca così... Che faccio la gara del giovedì... Cioè... Risultato... Mi chiede... Dai 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 dai... Va bene... Ok... Quindi mi iscrivo alla gara con lei... Risultato... Chiaramente presa sotto gamba... Perché non si fa... Cioè... Tutte cose che ho imparato... Più o meno tutto quel giorno lì... Tra l'altro... Risultato... Arrivo... Mi ricordo benissimo... Alla 6... Davanti al bunker... Asta appena dopo il bunker... Io con il... 58 senza bounce... Che ti ricordi... Avevo preso per una gara a Tolcinasco... In un periodo in cui... Era talmente duro... Quel... Quel campo... Che se avevi anche solo tanto così di bounce... Ti rimbalzava tutto... Hai tirato un flap... Ho tirato un flap... Una delle flappe più grasse della storia... Che quasi non arriva neanche in bunker... Poi rotola mollemente in bunker... Tutto in discesa con i piedi fuori dal bunker... Arrivo dentro al bunker... Tiro un'altra pestata... E faccio... Toppone voracifero... E va a fondo green... Mi giro... E... Con tutta la forza che avevo in canna... Ho tirato... La lama del sand... Per così... Contro la sacca... Nel centro della sacca... Nooo... Facendo nell'ordine... Spaccare il tubo centrale della sacca... Che è quello che la tiene dritta... Quindi quella sacca... Da quel giorno in poi... È diventata la sacca di Pisa... Esatto... Metà sacca era così... Esattamente prendendo un punto... Dove c'era una taschina... Dove tenevo il cellulare... Startac... Motorola... Startac... Uno dei primi cellulari che avevo... Anche perché ero piccolo... Ed erano anche i primi... Così... Sfondato... Distrutto... E... Nell'entrare... Ho preso la canna del drive... Appena cambiato... Potevi fare ancora più d'anni... Avevo una... Una UST... V2 Force... Ma la primo modello... Sul... Sul Callaway... Big Bertha... Che ti ricordi che tirava ste palle super perarie... Quindi avevo messo uno shaft super gnocco... Insomma... Il risultato... In una botta sola... Oltre a fare una figura... Da cioccolataio... Pazzesca... Barbinissima... Barbinissima... E sentirmi... A quel punto poi... Veramente... Un disastro... Avevo spaccato la sacca... Il cellulare... E il drive... E il wedge chiaramente si è piegato... Il migliore problema... Però quel punto... Quello era... Allora... Lì ho avuto una percezione... Proprio... Sai come... Tipo... Esci da te... Esci da questo corpo... Mi sono visto da fuori... E ho detto... Questo è il giocatore che io non voglio essere... Però posso dire che hai rotto un'altra cosa... Hai rotto l'abitudine... A essere quel giocatore lì... C'è... Mi sono anche rotto... I paroli... Per fortuna... Tutto il resto era riparabile... Quello non l'hai riparato... Aspetta che c'è... Chiediamo a distanza... Abbiamo chiesto a distanza il caffè... Grande... Alla Franci... A distanzissimo... Proprio a 40 metri di distanza... Ah... Stanno ascoltando... Ah... Perché ci abbiamo... Ah... Allora... Sì... Uno deca... Vediamo se arriva... Uno deca... Insomma... Quindi... Risultato fatto... Deca... Mi hanno fatto così... Ok... Perché dentro nel clubino... Al bar... Non ha freddo fuori... C'è chi si sta ascoltando... E intanto abbiamo... Che dimagio bravo... Che dimagio bravo... Che dici chiara... Non capisco che si arrivi a ciò... Ale... Zitto... Perché rischi che poi la racconto... Ale... Esatto... Però... Anche tu sei arrivato a ciò... Similare... E quindi lì a quel punto ho avuto veramente una illuminazione... E... E da lì ho capito che... Se volevo fare un salto di qualità golfistico... Era importante... Quasi fondamentale... Pensare... Ok... Ma che giocatore voglio essere... Che giusto... Come mi voglio comportare... Come mi piacerebbe essere... Essere... Mi piacerei... Da fuori si dice... Cioè... Voglio piacermi... Come giocatore... Così non ti saresti piaciuto... Decitamente... E a quel punto... Ma... E mi ha cambiato... Vabbè... Chiaramente nel golf... Non vi dico che chiaramente mi ha cambiato anche nella vita normale... Perché racconto sempre che tutto quello che io ho imparato nel golf... In realtà... Mi ha servito quasi di più... Nella vita quotidiana... Che non nel golf... Ti ha insegnato di più una flappa... Che una valanga di colpi fatti bene... Esatto... E soprattutto... Far fuori un regalo così importante... Mi ha permesso... In qualche modo... Quindi il regalo è servito... Perché... Distruggendolo... Ho capito... Quanto stessi andando in una direzione che non era quella che volevo... Autodistruttiva... Esatto... Ma comunque... Piccolo aneddoto così... Sul finale di... Un caffè con B2G... Allora... Quando arriva il caffè... Quando arriva il caffè... Chiudiamo... Intanto facciamo gli ultimi commenti... Abbiamo... Abbiamo... Aspetta che ce l'ho qua... Ehm... Giordano C... Il miglior regalo che non ho ben capito... Se è utile o no... È la pallina che può ruotare... Solo perfettamente tipo ruota... Ottimo per capire quanto è precisato il tuo patting... L'ho vista... Allora... Mi hanno anche proposto di provarla... La proveremo allora... Quindi direi che... E se riesco ad averla... Dovremmo riuscire a provarla... Tantissima roba... È il triplete... Vogliamo parlare dei regali brutti ricevuti? Tipo... Mia cognata che mi regala cose golfistiche... Old style... Orrende... Convinta che gioco a St. Andrews nel 1800... Nel 1800... Però alcune cose magari sono... Bellissime... Alcune cose magari sono... Sono fighissime... Io penso che ho richiesto un regalo di questo tipo... Se arriva perché è difficile da trovare... Ma se arriva lo porterò anche sul canale... Ti dico una cosa che mi piacerebbe avere in bacheca... Che non ho... Avevo... Ma ho regalato... E adesso invece la rivolrei... Attenzione... Grazie mille Francesca... Arriva anche un'acqua... Ah beh... Un'acqueta perché hanno visto che tossivo... E hanno capito che forse ci voleva un attimo di acqua... Che chiaramente noi non eravamo preparati a questa cosa... Grazie mille... Grazie... Caffè... Abbiamo tutto allora... E grazie anche agli ordinatori ufficiali di caffè dalla distanza... Grazie... Puoi salutare? Vai... Passa... Passa dietro... Ciao... Ce l'abbiamo... È il caffè con B2G... Ehm... Grazie... Una cosa che vorrei io... Vai... Le palline di una volta... Quelle incartate una per una... Ah... Belle... Sì... Avevo una Penfold... Punto rosso... Se non ricordo male... Ultima rimasta lì... Non si sa bene come... Ehm... Vai regalati... Sì... E uno mi ha detto... Ah cazzo... Una bellissima... La vorrei... E io ho detto... Ah vabbè... Ma guarda... Tienila... Oggi come oggi... Non mi dispiacerebbe riaverla... Sì... Poi dipende da che cosa si parla di... No... Se arriva lo dico... Io lo voglio sapere... Ma dopo me lo dici... A telecamere spente... No... Ti lascio lì così... Ma no... Non ci piatto... Il caffè... Ma no... Mannaggia... O io... Chi è rimasto agli anni 90... Come me... Devo chiedere... Se il fornitore ci fa anche le maniche lunghe... Ok... Si può fare... Interessante... Ok... Chiediamo... Quindi... Risultato... Abbiamo raccontato dei regali... E buono qui... E buono B2G... Abbiamo raccontato dei regali... Fateci sapere sempre qui sotto nei commenti... Tutti i regali più... Ma volete un altro aneddoto? Fa... Scrivete tre... Se volete l'altro aneddoto... Il golf che ha spesso... Il tunnel carpale... Il tunnel carpale... Quindi... Quello è il regalo che ti dà... No... Non c'entri con la domanda... Regalo... Perché si è messo a partecipare solo ora... Foto Zaza... Il golf che ha spesso il tunnel carpale... No... No... Nel senso... Non più di altre attività... E' arrivato un tre... E' arrivato un altro tre... Tre tre tre... Qual era la domanda del tre? Se volete qualcosa... Se volete un altro... Un altro aneddoto... Sempre legato ai regali... Un altro aneddoto... Quello di prima... Era legato a un regalo... Molto distriscio... Però va bene uguale... Tre... Soprattutto se riguarda Alex... C'è anche... Eh... Tullier Galpan... No... No... Cioè... Mi è capitato il contrario... Che guarito... No... Che mi sono arrivati... Allievi... Che... Avevano un problema... Avevano il tunnel carpale... Precedentemente... E giocando a golf... Facevano più fatica... Abbiamo dovuto cambiare... L'impugliatore... Ok... Ma non che venisse... Cioè... Che venisse giocando a golf... Boh... Non lo so... Possono venire... Problemi ai polsi... Di altri tipi... Perché io... Su entrambi... Però no... Tuner carpale... Vi posso dire anche... Anche alle ginocchia... Se posso... Mi devo operare... Se si è già soggetti... Magari... No... È vero... Se sei già soggetti... Predisposti... Magari... Può essere un accentuatore... Però... A livello singolo... Boh... Allora... Non più di altre cose... Direi... Tu ce l'hai un aneddoto... Su... Su dei regali... Allora... Io ti tiro fuori un altro aneddoto... Sui regali... Io ti faccio un regalo semplicissimo... No... In realtà... Non è semplice... Vai... Cioè... È un regalo che ha fatto... Mi ha fatto... Mi ha fatto... La Federazione Italiana Golf... Mi è venuti bene... Perché mi è capito... Nella foto... Di recente... Vai... De... Una cosa che era chiamata... Il Super Corso... Ovvero... La Federazione Italiana Golf... Regalava... Ai migliori giocatori... Non nazionali... Quindi ancora... Quelli che stavano arrivando... Nella... La possibilità di partecipare... A un... Corso... Tra virgolette... Intensivo... In Scozia... In cui... Tutti i migliori brevetti... Giovanini... Andavano a giocare... Nei campi... Principali scozzesi... Quindi abbiamo giocato... A... St. Andrews... Uno dei secondi... Se mi ricordo... All Castle forse... Carnousti... Ma è quella foto... Che è uscita ultimamente... Quella foto erano tutti... Rossi... Ficissimo... Ecco... Era un regalo a Federazione... Che era... Fuori dal... Programma... Diciamo... Di Massima... Però... Erano riusciti a trovare... I fondi per... E hanno regalato... Quindi è migliore... Che... Per entrare... Bisogna fare una serie di... Di passaggi... Abbiamo fatto... Minimo 800 milioni di giri... Per... Nelle gare... E entrare nei primi... Di ogni categoria di età... Eccetera... Eccetera... Sono successa una quantità di disavventure... In quel viaggio... Una dietro l'altra... Tipo... Dicene una... Dai... Abbiamo... Per esempio... Gente che è stata... Diciamo... In quel momento eravamo noi... E la panchina... Fino al giorno prima... Era... Era pulita... Ma... Ci sono state anche... Dita schiacciate dentro... Al furgone... Al furgone... Con quindi ragazzi... Che poi per giocare a golf... Non servono... E non ha potuto giocare... Per tutta la settimana... Ma anche... Quella è una cosa... Anche peggio... Aggressione da parte di... Ragazzi scozzesi... Ubriachi... Con tanto di... Pestaggio... Nei confronti di uno dei... Dei nostri... Che si era attardato... Dietro un po'... Un po' dietro... L'hanno brancato... E... Ha preso una manica di botte... Di quelle importanti... E nonostante... Poi siamo arrivati dopo... A cercare di fermare la cosa... Ma ormai era già... Cioè... Le è arrivata una... Una legna importante... E il suo dente... Se lo ricorda... E... Però... Cioè... Ma... Siamo solo dei ragazzi tranquilli... Che non fa niente... Eppure... Allora... Vi racconto l'ultimo aneddoto... Su un regalo... Poi... Poi stacchiamo davvero... Allora... Abbiamo raccontato prima... Che uno dei regali... Che viene fatto più spesso... Da non golfisti... A golfisti... È... Il... Pat... Quello che si smonta... Da ufficio... Ok... Quindi se si smonta... Sta tutto in una scatoletta... C'ha la sua pallina... La sua buca... Che si apre... Si mette per terra... E tutto il resto... Ehm... Puoi immaginare che a me... Tipo... Ne hanno regalati un po'... Non è che a me ne è capitato uno solo... Risultato... Un po' di anni fa... C'era questa usanza... A casa del Gianlu... Del Gianlu... Del Gianlu... Di fare il Natalone Trash... Ovvero... Si faceva una serata... Di Natale... Eh... Per festeggiare il Natale... Dove tutti portavano... Il peggior regalo che avevano ricevuto... E poi veniva rimesso... Sì... E poi... Poi venivano numerati... Poi veniva girato... E ripescato un numero... Quindi ognuno pescava l'altro... Un regalo di un altro... Così... Era divertente... Era un modo come un altro... Per stare insieme... Bellissimo... Risultato... E io... Avevo due o tre regali... Veramente super trash... Tra cui... Volevo risparmi di uno... Di sti cavoli... Di patto smontabili... Da ufficio... Non mi direi che hai ripescato il tuo regalo... Allora... No vabbè... Quello è normale... Quello capita... No ma... Nel giro... No... Allora... Cosa è successo? Chiamo e dico... E chiedo chi ci sarà... Perché... Non era abitué... C'era un gruppo ben specifico... Eravamo sempre gli stessi... E poi... Ogni tanto c'era qualcuno in più... Quindi io ho detto... A scanso di equivoci... Chiedo... Quindi chiedo... Ma... Chi viene? Ah... Non c'era quello del regalo... Le cose... Quindi... Tranquillissimo... Io in pacchetto... Metto... Metto in macchina... E non ci penso più... Poi dopo un po'... Andiamo al... Al... Al Natalone... Arrivo... Chi era il primo che ho trovato... A casa di Giallo... No... E io col pacchetto... E lui fa... Ah sono io oggi... Quest'anno l'ha detto... Lo prende e lo mette via... Quindi non avevo più modo di cambiarlo... No... Ho cominciato a trovare scuse di ogni genere... Non sapevo... Il problema è che era... Vacanza... Non c'era niente di aperto... Non sapevo come fare... Stavi per regalare le mutagge piuttosto... E cambiare il pacchetto... Aspetta... Non poteva andare peggio... Chi l'ha preso? Lui! E l'ha riconosciuto... Subito... Perché era mio... L'aveva fatto lui... L'anno prima... Vabbè... Ecco quindi... Ricordatevi... Ricordatevi di non regalare... Il pat che si smonta... Allora è vero... Invece la cosa carina... No è carino... Se viene preso con quel... Se c'hai l'ufficio a Manhattan... Deve essere preso in maniera goliarga... Tipo io... Il pat da water... È perché ne ho tanti... Ammetto che... Perché uno lo ne lo sono tenuto... Ne credo di averne ancora un paio... Se qualcuno lo vuole... Devo ammettere... Il pat da water... Lo apprezzo... Cioè... Non lo uso... Ma lo apprezzo... Beh... È stato divertente... È divertente... Ogni volta che lo vedo... Mi strappo un sorriso... Quindi sì... È apprezzato... Anzi... Mio figlio piace tantissimo... Non lo usa... Perché è ancora troppo piccolo... Se provo a usare... Cade nel water... Però... Vorrebbe usarlo... Quindi arriverà il momento... In cui... Verrà usato... Bene... Quindi la nostra puntata di... Un caffè che è arrivato a sto giro... Il tema... Regali golfistici... Ai golfisti... E non... Vi dice qui... Comunque... Apparirà anche... In differita... Su YouTube... Se volete continuare... La discussione... Vi viene in mente qualche regalo... Quando apparirà il video su YouTube... Andate a scrivere... Mi erano dimenticato di dire... Che questo è un regalo perfetto da fare... Continuiamo quindi... La discussione... Di questo video... Sotto... Nei commenti... E... Ci sta... E... Andiamo a schiacciare la X... Ciao...